Quasi pronta l'ordinanza ministeriale per l'apertura delle GPS 2022 che avranno validità per il biennio 2022-23 e 2023-24. Le graduatorie provinciali supplenze al via probabilmente tra il 19 aprile e il 9 maggio. Docenti e aspiranti docenti avranno 20 giorni di tempo per fare domanda. Tra le principali novità, l'inserimento con riserva nella prima fascia delle GPS per chi si abiliterà sul posto comune e classe di concorso o si specializzerà sul sostegno successivamente alla scadenza delle domande, purché sciolga la riserva entro il 15 luglio 2022 e l'introduzione di un nuovo sistema di sanzioni per la rinuncia o l'abbandono delle supplenze. Confermata la procedura informatizzata per l'assegnazione delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto, compresi gli spezzoni superiori alle 6 ore, dalle GAE e dalle GPS di prima e seconda fascia. E le altre disposizioni? Ecco una sintesi. Il docente potrà candidarsi su un'unica provincia e per i docenti iscritti già nelle GAE questi potranno scegliere una diversa provincia per l'inserimento nelle GPS. Chi può iscriversi con riserva? Gli specializzanti del sesto ciclo TFA sostegno e i laureanti abilitanti del corso di laurea in scienze della formazione primaria. Quali opportunità per gli studenti del corso di laurea in scienze della formazione primaria? Questi potranno iscriversi nelle GPS di seconda fascia posto comune per la scuola dell'infanzia e primaria. In particolare possono iscriversi gli studenti che nell'anno accademico 2021-2022 risultino iscritti al terzo, quarto o al quinto anno e abbiano acquisito rispettivamente almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza. Nella seconda fascia GPS sostegno rientrano i docenti privi del titolo di specializzazione che entro l'anno scolastico 2021-2022 abbiano maturato tre annualità di insegnamento sul posto di sostegno nel relativo grado. I graduatori d'istituto si scelgono fino a 20 istituzioni scolastiche per ciascun posto o classe di concorso. Chi è iscritto negli elenchi aggiuntivi del biennio precedente deve presentare domanda di nuovo inserimento in prima fascia. Chi è iscritto nelle graduatori del biennio precedente deve presentare domande di conferma se e per la medesima tipologia di posto e o classe di concorso rispetto al biennio precedente. Può anche cambiare provincia e aggiornare il punteggio se ha nuovi titoli e o nuovi servizi. Supplenze brevi fino a 10 giorni per i docenti della scuola dell'infanzia e della primaria sono reinserite rispetto al biennio precedente, le supplenze brevi fino a 10 giorni. È stata reintrodotta la possibilità nella scuola di primo e secondo grado di assegnare gli spezzoni fino a 6 ore ai docenti a tempo determinato già in servizio nella scuola. Sono confermate integralmente le tabelle di valutazione del servizio e dei titoli del biennio precedente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.